Cambio in panchina per l'Abba Pineto Volley dopo la rescissione consensuale di mister Daniele Rovinelli. Franco Bertoli è il nuovo coach dei Biancazzurri. Mano di pietra, questo è il suo soprannome da giocatore, prende il timone della formazione terramana. Nella presentazione ufficiale tenutasi questa mattina nella splendida location di Villa Figliani a Pineto, Bertoli non si è sottratto alle altissime ambizioni della società rivierasca. Mi hanno convinto le persone perché io ci guardo e quindi persone serie a partire da Guido ma anche dai suoi soci con i quali abbiamo avuto un incontro e quindi mi hanno convinto loro nella serietà la reputazione che ha questa società che hanno loro è molto importante e poi anche comunque la squadra che hanno allestito che è una squadra di livello competitiva che ha le qualità, le capacità per raggiungere l'obiettivo che mi è stato chiesto che è quello della promozione. L'obiettivo che mi ha chiesto la società è la promozione, quindi lotteremo fino all'ultimo per raggiungere quell'obiettivo. Non sarà semplice perché vincere non è mai semplice, vincere è la fine del viaggio, quindi quello che anche con i ragazzi stiamo mettendo in piedi è importantissimo, ogni palla, ogni set, ogni partita dobbiamo dimostrare a noi stessi prima di tutto di essere all'altezza, di essere uniti, di essere nella fiducia e poi partita dopo partita andremo verso la parte finale che ha un livello anche chiaramente la pressione dei play-off dove è un po' più difficile gestire i momenti perché i play-off si sa sono dentro o fuori mentre la regular season, quella che stiamo giocando adesso, più o meno è importante arrivare lì in testa ma poi è importante vincere alla fine dove se non vinci sei fuori, se non vinci non raggiungi l'obiettivo. Dello stesso avviso il presidente dell'Abba Pineto Volley, Guido Abbondanza. Ora è arrivato Mr. Bertoli a cui inizialmente non pensavamo che veramente potesse accettare l'incarico proposto dall'Abba Pineto e invece quando abbiamo capito che effettivamente c'erano le condizioni per affondare non abbiamo esitato e siamo riusciti a portare un mito della pallavolo italiana e se non mondiale a Pineto.